carissimi web spettatrici, carissimi web spettatori, buonanotte, madonna ma quanti siete? 50? 60? la miseria, vabbè, questo è un mi scappa la diretta by night, l'ho promessa un'amica, ci siamo salutati un attimo in Skype con Silvia, mi ha detto che lei, Fulvio e Zia Lella hanno fatto veramente, sono stati dei mattatori dello schermo oggi sulla tv 5 stelle, e allora niente, mi ha detto che hanno anche provato a imitarmi, e allora dice ma com'è che dici, buonasera, buongiorno, web spettatori, web spettatrici, eccetera, e allora ho detto che avrei fatto un mi scappa la diretta by night per farlo vedere, non so se adesso è uguale come faccio di solito, probabilmente no, perché non riesco mai a fare le cose uguali, allora niente, io sto per andare a letto, perché è anche tardino, sono le 2, le 2 e 4 minuti, siamo appena venuti su in camera con Pietro, anzi Pietro è già a letto, e niente, io ho fatto due chiacchiere con Silvia, con Fulvio, e niente, adesso vado a letto perché è tardi, domani alle 7, a che ora è la sveglia, non mi ricordo neanche più, alle 7, 7 meno 10, perché alle 8 e un quarto si parte per andare a Foggia, dove c'è il primo appuntamento alle 10, quindi mi raccomando, seguiteci per l'appuntamento di domani da Foggia, anche domani 5 tappe, le ultime 5 tappe di questo massacrotour, non mi ricordo neanche bene quali sono tutte, comunque Foggia, sicuramente la prima, poi non lo so, non mi ricordo più, comunque lo trovate sul blog, bene, allora vi saluto, spero che oggi vi siate divertiti, sono state delle tappe memorabili, quella di Bari è stata in assoluto la più popolata di gente, c'era una piazza veramente piena, 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 ci saranno state secondo me almeno 2.000 persone, ma forse anche 3.000, è stata veramente bella quella di Bari, con il numero di persone, anche tutte le altre sono state belle, quella di Potenza, con un freddo becco, ma bella. Bene, allora, vi saluto, ci vediamo domani mattina, ci sarà sicuramente un mi scappa alla diretta mattutino, insieme a tutti gli altri, a Pietro, Walter, Beppe, e poi quando arriveremo a Foggia naturalmente, come sempre. Allora, vi saluto, buonanotte, grazie dell'attenzione e dell'affetto che mi state dimostrando in questo periodo, sono molto contento, vado a riposarmi, come credo si veda, sono stanco. Ciao a tutti, buonanotte.